Nel 2010 la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è entrata in vigore a livello dell'Unione Europea. Essa sancisce i diritti umani, tra gli altri gruppi, delle persone cieche e ipovedenti. Questa convenzione mira a una società pienamente inclusiva per tutti. Ma dopo più di dieci anni, le persone cieche e ipovedenti in Europa devono ancora affrontare molte sfide nella loro vita quotidiana. Queste persone vi diranno quali sono i loro problemi e quale soluzione inclusiva propongono per migliorare la propria vita. Date un'occhiata per sapere cosa potete fare per rendere questo mondo più inclusivo. Articolo 9. Diritto a un mondo accessibile. Le persone cieche e ipovedenti devono avere pieno, sicuro e libero accesso ai trasporti pubblici e all'ambiente costruito per condurre una vita inclusiva nella comunità. Per raggiungere questo obiettivo, le strutture e i servizi devono essere progettati, forniti e gestiti per consentire a ciechi e ipovedenti di accedere alle informazioni, interpretarle e comprenderle. Sapere dove si trovano e se stanno viaggiando nella giusta direzione. Sapere se sono al sicuro quanto le altre persone che si trovano in quell'ambiente. Un giovane uomo è in piedi davanti a un edificio addibito a uffici. Salve, sono Angeius Ravanas, della Lituania. Ho 27 anni. Sono nato con una malattia chiamata retinopatia del prematuro. Ciò significa che la mia vista è stata molto debole sin dalla nascita. Quando avevo 17 anni l'ho persa del tutto. Mentre cammina, usando il suo bastone bianco, si scontra con un palo sul marciapiede. E cerco di fare tutto autonomamente nella mia vita, ma in alcuni luoghi la mia autonomia è limitata a causa dell'ambiente inaccessibile. Arriva a un ascensore. Un altro vero problema sono gli ascensori. Ad esempio, gli ascensori dotati di sensori e pannello touchscreen. Perché in questo caso non sono in grado di individuare i pulsanti e selezionare il piano da raggiungere. Inoltre, anche se in qualche modo riesco a trovare il pulsante e selezionare il piano, con le mie tecnologie assistive, non mi sarebbe comunicato a quale piano si è fermato l'ascensore. Perché l'ascensore molto spesso non annuncia il piano a cui si sta per arrivare. Consulta il suo telefono a distanza ravvicinata. Articolo 19 Vivere in maniera indipendente Le tecnologie assistive sono indispensabili per la vita quotidiana di molte persone con disabilità visiva. Tuttavia, nell'Unione Europea, esse devono ancora affrontare molte barriere per accedere a queste fondamentali tecnologie e trarne pieno beneficio. Per esempio, in Francia una persona cieca deve pagare 400 euro per lo stesso software di lettura dello schermo che una persona cieca spagnola può avere gratuitamente attraverso l'Organizzazione Spagnola dei ciechi. Le persone cieche e ipovedenti dovrebbero beneficiare di un mercato unico a livello dell'Unione Europea per le tecnologie assistive, in modo che possano scegliere la tecnologia più adatta a loro e tali tecnologie devono essere di qualità, disponibili e alla portata di tutte le persone con disabilità visiva. In un centro di formazione per la mobilità, una giovane donna fa scorrere il suo bastone bianco su una pavimentazione tattile. Mi chiamo Natascia Truiglio, 28 anni e sono nata a Caracas, in Venezuela, ma attualmente vivo in Spagna, a Madrid. Sin dalla nascita soffro di glaucoma, il mio residuo visivo è del 10%. Infila la punta delle dita nei fori di una mascherina di plastica per l'individuazione dei tasti su un piano di cottura a induzione. Una cosa che sarebbe realmente utile è dotare tutti i fornelli a induzione di una sorta di localizzatore di tasti da mettere qui per toccare i comandi. A una fermata dell'autobus consulta il suo telefono. Quando alla fermata arrivano molti autobus contemporaneamente, di solito prendo il mio telefono, faccio una foto e poi la ingrandisco per cercare di vedere il numero dell'autobus. Dal macellaio Quando vado a fare la spesa, una delle cose più complicate, direi, è trovare il dispenser Eliminacode per prendere il numero. Talvolta, come accade in macelleria, non c'è nessuna indicazione su dove si dovrebbe prendere il numero. E quando lo trovi, un'altra complicazione è cercare di vedere il numero sul bigliettino. E inoltre, non ci sono indicazioni sonore sullo schermo per sapere quando è il tuo turno. Per strada, consulta a distanza ravvicinata il suo telefono. È molto importante per l'inclusione delle persone cieche e ipovedenti essere autonomi e vivere in modo indipendente. Apre il suo bastone bianco. Come sancito dall'articolo 19 della CRPD, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Viaggiare è una parte fondamentale della vita quotidiana che ci permette di andare al lavoro, di fare visita ad amici e parenti e andare a fare acquisti. Tuttavia, viaggiare in autonomia non sempre è facile se sei cieco o ipovedente. L'addestramento di un cane guida richiede fino a otto mesi di tempo e costa circa 17.500 euro. Una giovane donna dai capelli biondi con una felpa con cappuccio. Ciao a tutti. Mi chiamo Maria Laura. Sono italiana, ho 34 anni e sono cieca dalla nascita. Lei e il suo cane guida attraversano di notte una piazza cittadina. Vivo con il mio cane guida Snoopy. L'unica difficoltà che trovo, quando mi devo spostare, è che vicino a casa mia mancano del tutto i semafori sonori. E questo è un grosso problema per me. Qualche volta trovo difficoltà anche nel prendere un taxi con il mio cane guida, perché i tassisti pensano che i cani siano molto sporchi e non vogliono che lui entri nella loro auto. Lei e Snoopy attraversano su un passaggio pedonale. Ciò che spero per il futuro è che l'intera città di Trieste, dove vivo, sia dotata di semafori sonori e tecnologia Letysmart. Questa sarebbe la cosa migliore per permettermi di spostarmi. Vorrei inoltre far conoscere meglio la legge che permette ai cani guida di salire su tutti i mezzi di trasporto. Articolo 21. Diritto all'informazione accessibile. Nel nostro mondo moderno, l'informazione è fondamentale per prendere parte alla società quotidiana. Per le persone cieche e ipovedenti, l'informazione non sempre è accessibile. La Direttiva sull'accessibilità del web è in vigore dal 22 dicembre 2016 e fa sì che le persone con disabilità abbiano un migliore accesso ai siti web e alle app mobili dei servizi pubblici. Ma nessun paese europeo ha leggi formalmente in vigore che garantiscano l'accessibilità dell'informazione nel settore privato. Un giovane dai capelli biondi si trova in una foresta cosparsa di foglie. Salve, mi chiamo Jacob Rosin e sono il presidente dell'Unione Estone dei Ciechi. Ho 26 anni e sono estone. Avanza a grandi passi usando il suo bastone. Sono cieco assoluto, ma nei primi 13 anni della mia vita sono stato in grado di percepire la luce e un poco i colori. La RMK è l'organizzazione nazionale responsabile della salvaguardia delle nostre foreste e della natura in generale. Si trova vicino a un cartello segnaletico alto fino alla vita. Le informazioni sono ampiamente diffuse attraverso segnali come questo, nella foresta, e anche attraverso siti web e applicazioni mobili. E oggi voglio parlare dell'applicazione mobile. Sfortunatamente però questa app non è accessibile per me. Usa il suo bastone per evitare le pozzanghere. Ciò significa che non posso usare questa app da solo. Non riesco a scaricare informazioni, né a sapere cosa viene visualizzato sullo schermo. Perché se l'app non è accessibile, non so se il percorso escursionistico sia accessibile, per esempio. E pertanto ho bisogno di dipendere dagli altri. Se tutti gli sviluppatori seguissero le linee guida presentate per i siti web e le applicazioni mobili quando sviluppano i loro prodotti e servizi, tutti sarebbero in grado di usarli e ottenere più libertà e autonomia. Articolo 24. Istruzione inclusiva. L'istruzione è un primo passo importante per una carriera di successo e una vita indipendente. Ma, nell'Unione Europea, il tasso di abbandono precoce della scuola e dell'istruzione è il 31,5% per le persone con disabilità, a confronto con il 12,3% per coloro che non hanno una disabilità. Nell'Unione Europea, circa il 36% delle persone senza disabilità, di età compresa tra i 30 e i 34 anni, raggiunge un livello di istruzione universitaria, a confronto con meno del 24% per coloro che hanno una disabilità. Una donna si trova davanti a un disegno dell'occhio umano e a un poster dell'Ebu. Mi chiamo Dusciana, ho 37 anni e provengo dalla Slovacchia. Sono cieca dall'età di 14 anni, attualmente non riesco a distinguere tra il buio e la luce. È seduta a una scrivania con la sua intervistatrice Micaela. Dusca, che cosa ti piace fare? Mi piace imparare le lingue straniere, ma c'è qualche problema per me alla scuola di lingue. Perché? Uso il mio computer con lo screen reader, ma da quando ho iniziato a imparare le lingue volevo avere un libro di testo in braille per vedere come si scrivono le parole. Ma io, essendo adulta, non sono riuscita a trovare un istituto che producessi un libro accessibile per me. Mostra, un libro con illustrazioni. La situazione non è in conformità con l'articolo 24 della Convenzione CRPD sull'istruzione. Questo articolo stabilisce che gli stati parti devono garantire un sistema educativo inclusivo a ogni livello e l'apprendimento permanente. Micaela fa una domanda. E come hai risolto il problema? Ho chiesto ai miei amici, che mi hanno aiutato a titolo volontario, ma ho dovuto essere io stessa a organizzare. Sarebbe molto di aiuto se ci fosse un istituto in Slovacchia che avesse l'obbligo legale di fornire agli studenti e a chi usufruisce dell'apprendimento permanente libri di testo accessibili e se tali libri fossero gratuiti. Articolo 27. Pari diritto al lavoro. Il diritto al lavoro e all'occupazione è un diritto fondamentale per condurre una vita normale, secondo la CRPD. Comunque, a livello dell'Unione Europea, UE, il tasso medio di disoccupazione delle persone cieche e ipovedenti, in età lavorativa, è più del 75%. Per perseguire la propria carriera, l'istruzione e la formazione permanente sono essenziali, ma soltanto il 10% delle persone con disabilità nell'Unione Europea partecipano all'istruzione e formazione permanenti, a confronto con il 21% di coloro che non hanno una disabilità. Una donna è seduta davanti al suo computer. Mi chiamo Yolanda Spans, ho 52 anni e vivo in Olanda. Soffro di retinite pigmentosa e sono ora, quasi cieca. Nel 2014 ho iniziato a cercare un lavoro. Un anno dopo, la legge sulla partecipazione è entrata in vigore in Olanda, il che significa che le persone che non sono in grado di guadagnare un salario minimo autonomamente sono incluse in un apposito registro. Strumenti di reintegrazione e sovvenzioni sono collegati a questo registro. Usa una tastiera Braille. Io riesco a guadagnare il salario minimo e non ho i requisiti per essere inclusa nel registro. Questa è la ragione per la quale sono meno interessante per i datori di lavoro, perché non ricevono un sussidio quando mi assumono. Credo che la legge sulla partecipazione dovrebbe essere ampliata a tutti coloro che hanno una disabilità, in modo che non entrino in competizione nei confronti dei datori di lavoro. Digita su una tastiera classica. E io credo che i pacchetti software dovrebbero essere accessibili a tutti, in conformità con quanto sancito dalla Convenzione ONU sulla disabilità. Articolo 29. Diritto di partecipare alla vita politica e pubblica. È un diritto umano che le persone cieche e ipovedenti possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di parità con gli altri. Ma non possono votare in modo autonomo, come prassi ordinaria, in nessun paese europeo. In nessun paese europeo, la percentuale di persone con disabilità visiva trova riflesso nei membri del Parlamento. Un uomo di mezza età è rivolto verso la videocamera. Mi chiamo Eric Berkvist e sono attualmente deputato al Parlamento europeo. Quando avevo due anni, i miei occhi hanno iniziato a darmi problemi, infiammazioni e poi il glaucoma. La parte più difficile per me è stata, direi, la logistica, andare da un posto all'altro. Direi che questo è il problema più grande. A Bruxelles. Che conseguenze hanno questi problemi sulla tua vita politica? Beh, alcune cose ovviamente sono molto più difficili perché non posso vedere il linguaggio del corpo, la comunicazione non verbale, delle persone, e puoi renderti conto di quanto ciò sia importante. È solo attraverso la voce che posso sapere se le persone sono d'accordo o in disaccordo, se scherzano o qualsiasi altra cosa del genere. Perciò le parole e i toni che le persone usano stanno diventando sempre più importanti. Due spettatori assistono dall'anello più alto dell'emiciclo del Parlamento europeo. Senti di poter esercitare i tuoi diritti? Sì, sento che posso farlo. Direi che il sistema di votazione è inutilmente complicato per tutti, ma posso farmi aiutare, quindi riesco a usare il sistema di votazione. Altre cose che sono complicate, naturalmente in politica, è necessario sapere cosa stanno pensando le persone, come stanno reagendo. Beh, una conclusione potrebbe essere che la disabilità è qualcosa che dipende molto dall'ambiente e in realtà non dipende dalla disabilità in sé. Articolo 30. Pare accesso alla vita culturale e sportiva. Gli sport sono molto importanti per rilassarsi e scaricare l'attenzione, per acquisire fiducia in se stessi, per costruire una rete di contatti sociali. Ma il gruppo di persone con disabilità visiva che fanno sport almeno una volta alla settimana è soltanto il 50% a confronto con il gruppo di persone vedenti. Soltanto una persona con disabilità visiva su 10 fa parte di un club sportivo a confronto con 4 persone vedenti su 10. Un giovane uomo con la barba in abbigliamento sportivo si trova in uno stadio al coperto. Mi chiamo Marco Nikolic e sono il capitano della squadra nazionale di Golbal del Montenegro. Si dirige verso il palazzetto dello sport locale. Avendo una disabilità visiva sin dalla nascita, incontro barriere e ostacoli tutti i giorni per gli spostamenti in autonomia, sia all'interno degli edifici sia nell'ambiente esterno. La squadra di Golbal si prepara a giocare. L'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riguarda la partecipazione alla vita culturale e sportiva, alle attività ricreative e di svago. I vincitori si riuniscono in cerchio per festeggiare e saltano su e giù all'unisono. Possiamo affermare che abbiamo lavorato tantissimo per stimolare e promuovere la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive di tutti. Tuttavia, non tutte le persone con disabilità visiva hanno accesso alle strutture sportive e ricreative. È importante sottolineare quanto sia importante mettere in condizioni le persone con disabilità visiva di essere sia partecipanti che spettatori in ambito sportivo, sia per l'aspetto fisico che per quello mentale. Praticare sport è estremamente importante per tutte le persone con disabilità visiva, uomini e donne, in particolare per i bambini. Invito tutti i decisori del settore sportivo, gli operatori sportivi e gli allenatori a fare in modo che le persone con disabilità visiva pratichino lo sport e partecipino ad attività ed eventi sportivi e ricreativi allo stesso modo degli altri cittadini senza disabilità visiva. Potete rivolgervi a LUICI, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Presidenti ONLUS APS www.uici.it Associazione aderente all'Unione Europea dei Ciechi, EBU Questo video è stato realizzato con il sostegno del Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea.